Sono venuta a conoscenza della borsa di studio grazie a mia madre e una sua amica che seguono tutte le pagine social del Politecnico. Consiglio a tantissime ragazze di informarsi perché ci sono tantissime borse di studio a noi sconosciute. Questo in particolare mi ha colpito perché non valorizzava l'ISE, bensì il merito e questa è una cosa che mi ha stupida tanto. Non conoscevo il Politecnico, è una realtà nuova per me, l'ho conosciuto grazie agli Open Day. La borsa di studio è stata sicuramente un incentivo nella mia scelta di indirizzo di studi. Se dovessi parlare con le future candidate a questa borsa di studio direi di non avere mai paura di insegnare i propri sogni e di buttarsi, di fare quello che si può con tutti i nostri mezzi, le nostre forze, senza farsi mai abbattere dall'opinione degli altri. Alla fine di questo percorso, tra tre anni, spero di vedermi laureata e soprattutto di aver trovato quello che voglio fare nel mio futuro in un modo più preciso e sistematico. Tra tre anni non so ancora dove mi troverò, spero di essere un po' più vicina allo scoprire la mia strada, però sicuramente avrò vissuto un ottimo percorso ricco di opportunità. Sono corsi di studio che richiedono ovviamente un grande impegno e sono felice che queste ragazze vogliano impegnarsi per essere poi protagoniste nelle sfide della società del futuro per poter affrontare le grandi sfide ambientali, climatiche, sociali e anche tecnologiche che abbiamo di fronte.